Eccoci qua in diretta dalla televisione di Brescia, la tv di Lonato del convento di Lonato Allora, ma te hai un viso familiare mi sembra No No, allora, il tuo nome? Vediamo se lo sai Eh beh, se non ti conosco mi faccio sapere il tuo nome Elisabetta Elisabetta, anni? Non si dice Non si dice gli anni, ok, private, giusto Che lavoro fai nella vita? Il tuo Io faccio l'operaio Ah, non fai l'operaio Fa la presentatrice, dove di bello, facciamo un po' di pubblicità Teletutto Teletutto, la tv dei? Bresciani Wow, Teletutto, la tv dei Bresciani Allora, questa ragazza qua è amica di Cristiano Tognoli? Sì Ok, poi Carlo Ricalcati? Sì, poi Ok, poi Erika Bariselli? Sì, poi Che è una mia amica, faccio anche colazione nel suo bario Di suo papà Lo conosci? Sì Ok Poi conosco chi è... Fami pensare a altri, Teletutto Andrea Cittadini Il ragazzo rizzolo come me, vedi? Ah no, non ha i capelli come me Quindi sei anche te Sì, tutti Perché la redazione sportiva la conosco molto bene Perché io adoro il Brescia E da tanti anni che sono abbonato al Brescia E quindi per la redazione sportiva di parole di calcio Non posso non conoscerle Bravo, ti stai facendo un'auto intervista Esatto, l'auto intervista Allora Te che ruolo hai in televisione? La presentatrice Fai blitz? Sì Wow, vedi che lo so che fa Blitz, blitz, blitz Fa il programma che C'è il monitor che va da una parte all'altra Giusto? Il programma, non so Della notte dei giovani ragazzi bresciani I locali Ma le sai tu? Wow, le so tutte Le so tutte Allora Domanda semplice di italiano Vinci un free drink Ditele tutto Ok Ok Il significato della parola Calabrosa Scusa? Il significato della parola Italiana Calabrosa Calabrosa 1 Ai 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 Calabrosa 2 Ma l'hai inventata? No, è una parola italiana No, non la so Manneggia Non ha vinto il moito del convento in un'altra La Calabrosa sarebbe Poi non te ti sveglia la mattina presa Andare in redazione a chiesa nuova Vedi nella tua macchinina La formazione di ghiaccio Ok Quelle specie di ragnatele Ghiaccio sui cancelli Si chiama Calabrosa Che bravo È una parola italiana Io sono molto Acculturato E se non riuscite a far ridere Una ragazza che lavora in televisione Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.